Come già sapete, la collezione della GAM vanta un prezioso nucleo di fotografie realizzate dai più grandi fotografi italiani. Forse non sapete che in questa raccolta c'è una selezione di ritratti d'artista realizzata da Paolo Mussat Sartor a partire dal 1969. Mussat racconta che uno dei suoi primi lavori in cui esiste la presenza dell'artista è quello di Mario Mertz, realizzato nel 69. Dice, l'avevo seguita dagli E. Mario aveva riempito con la cera uno spazio fra due rami d'albero. Sono immagini colte al volo, istantanee forse non perfette, ma lo erano per quel preciso momento nel tempo. Non erano fotorubate e nemmeno in posa. Era un tentativo in divenire. Ho cominciato così. Io sperimentavo con la fotografia, loro con l'arte. Seguendo il progredire dei lavori, si è costruito un rapporto di amicizia e di fiducia. Conoscevo Tucci Russo. Lui aveva 22 anni e lavorava con Gian Enzo Sperone. Io mi occupavo di fotografia e Tucci mi ha proposto di collaborare assieme. Così ho iniziato nel 69 a fotografare i lavori di un gruppo di giovani artisti e le loro mostre. Da Sperone a quei tempi passava il mondo. Arte concettuale, arte povera, artisti stranieri. A quei tempi a Torino non c'erano altri fotografi che si occupavano di questo tipo di documentazione. Così l'ho fatto io. Il periodo più intenso, dedicato a ritratti, ma non solo, va dal 1968 al 1975. Mussat ha lavorato, tra gli altri, con Pistoletto, Paolini, Anselmo, Griffa. A Torino ha seguito mostre e performance, come quella di Gilbert e George alla Gamm del 1970. Dice, se non fosse stato per Tucci non avrei avuto modo di realizzare questi ritratti che ancora oggi, dopo decenni, considero una magia oltre che una casualità.